E' di oltre 43.000 euro la somma destinata al Comune di Giulianova come sostegno alle spese di gestione degli asili nido cittadini, mentre di 14.000 euro il contributo assegnato per la realizzazione del progetto SOS Famiglia. In totale quasi 58.000 euro assegnati dalla Regione Abruzzo tramite risorse Parfas e mediante il piano regionale di interventi in favore delle famiglie. La soddisfazione è quella che quella pianificazione che abbiamo iniziato sei anni fa continua. Periodicamente noi riusciamo ad aggiudicarci somme nel sociale per la messa a norma degli edifici antisismici, quindi sempre somme che riguardano la sicurezza dei nostri bambini, delle nostre famiglie. In questi anni abbiamo intercettato oltre 6 milioni di euro di finanziamenti da bandi europei, nazionali e regionali. Nonostante i grandi tagli io non mi sono mai messo fasciato la testa e ho detto ottimizziamo le risorse ma non tagliamo nemmeno un euro nel sociale. Facendo? Partecipando ai bandi. Ai bandi si partecipa, si presentano le proposte e se sei bravo le vinci. Questi bandi ci consentono di generare risorse per fare tutto questo. A Giulia Nova, ad esempio, il buono pasto si paga 2,60 euro con pasti cucinati dentro agli asili, con asili che abbiamo ristrutturato completamente in questi anni, che accolgono più bambini di quelli che accoglievano quasi il 50% in più di quelli che si accoglievano tanti anni fa e cerchiamo di fare questo. Poi se in altre realtà, in altri comuni non si fa così, a me dispiace per i cittadini di questi comuni. Ma bisogna lavorare tutti insieme senza polemiche, senza fare nulla che non gli interessi dei cittadini. In questo periodo non è semplice, quindi con grande umiltà continuiamo a lavorare in questa direzione.